Mentre proseguono i live di X-Factor, alle audizioni erano successe alcune cose. SGA. Cosa vuol dire? SGA. Diciamo che il progetto è nato con lui singolo e si chiama SGA e io sono subentrata successivamente, però abbiamo tenuto. Però non hai portato nulla al progetto. No, infatti, mi spieghi perché SGA, cioè c'è qualcosa di torbido sotto. Mi chiamo Gabriele, hanno aggiunto una S alle medie. Eh, alle medie. E quindi? Ma che spiegazione è? Mi ha aggiunto una roba... Tra l'altro. La seconda domanda, non vi fidate lì nessuno, se avete le chiavi di casa, nel motorino... È vero. Lo stilista ce l'ha detto. Sì, no, infatti stanno bene, eh. Sì, si vede che hanno lo stilista dietro. E oggi cosa avete portato? Eh, magari. Abbiamo portato Tunnel Carpale, che è una canzone che parla di tutte quelle situazioni lì, un po' così, milanesi. Milanesi. Ognuno deve fare la stessa cosa, non so. A chi va a correre, a chi arrampica. Cioè non c'è più nulla da dire, capito? Hai fatto tutto, hai detto tutto e vai a correre. Anche non è proprio... Poi arrampicare. E quindi Tunnel Carpale. Io ho provato a arrampicare e mi è venuto il Tunnel Carpale. Ah, ecco perché. Ecco. Sentiamola, Tunnel Carpale. In Garibaldi, entro da Tiger e Cago. A me non dispiacciono. Con il power bank, la gente che sogna il cash, le scarpe da montagna, si arrampicare. Sono contro loro. C'è perplessità tra i giudici. Fan cura. Fan cura. Sono un sacco di cose a cui siete contro. Un'altra anche la musica, ve lo devo dire. Quello un po' sì, eh. Ad esempio. Buonasera. Adesso chi è? Questo è forte. Io mi chiamo Antonio Ascione, in arte furia. Fratello di Esther Ascione. E' molto cristologico. Sì, sì. I capelli non sono perché amo i capelli lunghi, ma ho fatto una promessa al Signore che li avrei tagliati poi, se mi avesse dato la possibilità. Di? Solo se avessi passato X-Factor? No, sul palco di Sanremo. Ah, cioè di X-Factor non gliene prega niente. Certo. Ci sputa sopra. E di così. Mi sembra che la promessa di Stato mi inizia a umiliarlo. Che pezzo porti? Earth Song di Michael Jackson. Ah, insomma è difficile. Ho rischietto un po' il brano. Ai, ai, ai. Va bene, dai. Io, 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 io. Un po' il lupo, vai. Manuel Odia, quelli che scrivono. Sì, ma a morte. Beh, è bella come l'ha rispinta. Avrei voluto farlo io così. Mamma mia. Sentiamo adesso. E ora? Non farlo. Tu sarà l'acuto. Non farlo, ha urlato Giorgia. Ma lui l'ha fatto. Invece, purtroppo, secondo me i capelli cresceranno ancora per tanto tempo. Ho sentito la sofferenza. Ecco, di chi? La mia. Ecco. Anche la nostra. Ma un po' di tutti. 4 no! 4 no felici! Non ci stavano anche 8. Non era contento, eh?